Circa 210 evacuati e tantissimi metri cubi d'acqua sui campi, nelle case, nelle strade di Budrio. È stato allarme vero oggi nel comune della bassa bolognese dove dopo mezzogiorno il torrente Ibice è esondato, ha rotto gli argini e ha invaso tutto il territorio circostante. Una catastrofe per famiglie, aziende agricole e residenti ad essere interessata è stata in maggior parte l'area tra la Riccardina e la via Viazza. L'acqua ha invaso le strade, anche la ferrovia è stata interrotta tra Mezzolara e Budrio a causa dell'esondazione tratta sulla quale è attivo un servizio di autobus in sostituzione. Super lavoro per i vigili del fuoco intervenuti in massa con sommozzatori, mezzi anfibie, elicotteri. È stato proprio con questi mezzi speciali che sono state tratte in salvo diverse persone rimaste bloccate in casa al primo piano con l'acqua al piano terra. Sono stati raggiunti con i canotti e poi issati tramite verricello sugli elicotteri. In parte si è trattato di persone anziane, qualcuno è rimasto anche intrappolato nell'automobile, sorpreso dall'acqua. Gli sfollati si sono riparati presso abitazioni di parenti e chi non sapeva dove andare è stato ospitato nel Palasport come questa famiglia. C'è un altro messaggio nella nostra vicina di casa che nel giro di 5 minuti dovevamo già subito lasciare la casa. Tutto qui. Poi in contemporanea tutte le macchine siamo andate via. E poi nel giro di 3 minuti sono arrivati tutti i soccorsi, protezione civile, ambulanze e tutto. Per fortuna il mio sfoggio era a primo piano. Io sono in Manzarda quindi diciamo che proprio dove stiamo noi no, ma il primo piano è tutto. Noi abbiamo l'ingresso lì quindi l'ingresso sarà tutto devastato. È stata una giornata intensa anche per il sindaco di Budrio, Maurizio Mazzanti. C'è un miglioramento almeno per il momento della situazione meteorologica, la notte dovrebbe essere tranquilla, ci aspettiamo però nuove piogge per domani quindi stiamo tenendo sotto controllo la situazione. I cittadini evacuati sono stati in parte alloggiati al centro di raccolta presso il palazzetto dello Sport di Budrio, altri hanno raggiunto delle destinazioni da amici o parenti, ma diciamo la situazione è complessivamente sotto controllo. Abbiamo inoltre deciso di tenere aperte le scuole anche perché fortunatamente la parte di paese allagata è piccola e comunque in campagna quindi non ha interessato molte famiglie con studenti. Stiamo organizzando la gestione del trasporto dello scuolobus perché probabilmente dovremmo fare alcune modifiche su una o due tratte, però pensiamo di tenerle aperte per non causare un ulteriore disagio invece alle tante famiglie di studenti budriesi.